A Cavallino Treporti è stata inaugurata questa mattina la nuova Casa della Pesca, un centro polivalente al servizio della comunità della piccola pesca artigianale del territorio e che punta anche a favorire la diversificazione delle attività e lo sviluppo dell'ititurismo. Questo deve diventare sicuramente un polo attrattivo per tanti aspetti. Casa della Pesca sicuramente, il valore della pesca per tutto questo importante settore, ma anche per il turismo, sinergie, formazione e il comune quindi rimane, oltre che essere proprietario, anche artefice perché vuole fare rete con i pescatori, vuole fare rete con il mondo delle categorie e ovviamente nuove opportunità di lavoro. Questo è il nostro obiettivo finale. Bravi i nostri pescatori, le cooperative, brave anche le istituzioni, insomma è un lavoro di squadra che rende risultato. C'è stato il ministro che si è occupato della piccola pesca, la pesca entro i tre miglia, la pesca identitaria, della biodiversità, la pesca della tradizione, della storia. Insomma la pesca deve essere sostenuta fino in fondo. Ricordiamo che la piccola pesca è tipica dei nostri territori. Il comune ha quindi affidato il centro alla gestione del consorzio ittico veneziano, al quale aderiscono oggi le maggiori organizzazioni della pesca veneziana, che riuniscono 155 imprenditori ittici. Siamo quattro cooperative, la Faro, la San Marco, la Cortellazzo e la Cavallino. Prima eravamo più sparsi, adesso siamo raggruppati qua con questa sede e con questi depositi che abbiamo le celle e queste vendite al minuto, per i pescatori del posto è una cosa importante. Le attività del consorzio, ospitate nello spazio di Via Lungomare San Felice, spazieranno dal conferimento del pescato delle marinerie associate al suo stoccaggio, dalla conservazione e confezionamento alla vendita diretta attraverso politiche di filiera e ancora iniziative di promozione e valorizzazione in collaborazione con realtà imprenditoriali turistiche ed associative del territorio litoraneo per valorizzare il pescato locale. È un mix con una grande potenzialità, territorio, saperi, sapori, turismo, cultura. Siamo al centro di un mondo che può diventare davvero il trampolino di rilancio di un settore che purtroppo è stato in difficoltà in questi ultimi anni. Questa inaugurazione della Casa della Pesca rappresenta un programma all'avanguardia non soltanto per il Veneto ma per l'Italia e l'Europa. E si vede l'ingegno, la capacità di programmare e di rinnovare, nonché di fare squadra, e riuscire a valutare tutte le eccellenze del territorio. E quindi da qui si incomincia un nuovo percorso dove si riesce a innovarsi, a mantenere l'identità, la tradizione e tutte le nostre eccellenze.